Il mio nome è Vincenzo Carnevali, oggi qui a Skillab stiamo facendo un corso per la linea guida per l'elaborazione del budget commerciale, ci occupiamo quindi di budget, ci occupiamo di business plan, di piano marketing, di piano commerciale, stiamo cercando di integrare gli strumenti per lo sviluppo del business aziendale. Oggi allo Skillab stiamo facendo un corso di formazione relativamente al budget, più orientato sul budget commerciale ma anche andando a vedere altre possibilità relativamente al dato economico piuttosto che al budget sul prodotto stesso e oltre a approfondire la parte proprio sul come fare, su quale strumento utilizzare, anche confrontarci con le altre persone presenti lavorando in ambiti diversi di business per vedere quali sono le peculiarità di ciascuno di esso e troverai magari qualche spunto su nuovi strumenti e difficoltà fatte da altri. Il corso però è interessante, adesso vediamo nella seconda metà della giornata se manterrà i buoni risultati della prima metà della giornata. Arrivederci. Inizio Grazie Allora Rovica Grazie a tutti.